quanto è costato agli italiani il reddito di cittadinanza l'osservatorio IMSS sul reddito e pensioni di cittadinanza ha reso in noti di quanto è costato agli italiani nel periodo d'aprile 2019-dicembre 2023 questo provvedimento di chiaro sapore clientelare assistenziale voluto soprattutto dal governo gialloverde dai grillini di cui era la bandiera politica per eccellenza il reddito che è andato a 1,1 milioni di famiglie in media è costato la bellezza di 34,5 miliardi di euro e nonostante questa cifra pochi sono stati avviati effettivamente al lavoro mentre da quando il reddito di cittadinanza è calato magicamente l'avvio al lavoro è cresciuto spontaneamente e l'Italia ha recuperato il record dell'occupazione ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri conoscenti a tra poco dopo la sigla cari amici vicini e lontani bentornati a una nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena il reddito di cittadinanza quel provvedimento smaccatamente clientelare voluto dal governo gialloverde all'epoca del 2018 che era una delle bandiere assieme al quota 100 per quanto riguarda le pensioni anticipate volute da Matteo Salvini è stato un calvoroso fallimento dal punto di vista economico ma soprattutto anche sociale perché nonostante Luigi Di Maio dal famoso terrazzo del governo avesse proclamato solenemente che dal 2019 la povertà sarebbe stata abolita in Italia la povertà in Italia non si è affatto abolita anzi casomai è andata via più aggravandosi toccando quelle classi sociali che mai la povertà l'avevano trovata soprattutto proprio a seguito dei provvedimenti scelerati dei grillini che avevano durante la pandemia hanno chiuso a doppia mandata tutte le attività autonome commercianti, artigiani e quant'altro privando della sussistenza milioni di persone che erano una volta quella che era la classe media la piccola borghesia italiana trasformandola in noelli poveri e soprattutto non avviando al lavoro nessuno di costoro se non in minima parte tant'è vero che quei poche decine di migliaia che sono stati avviati al lavoro sono costati alla collettività milioni di euro cada uno ma secondo l'osservatorio dell'Inps sul reddito della pensione di cittadinanza nel suo complesso nel periodo da aprile 2019 a dicembre 2023 il reddito di cittadinanza è stato incassato in media da 1,1 milioni di persone con un trattamento medio di circa 540,38 euro ed è costato alle casse dello Stato la bella cifra di 34 miliardi e mezzo 34 miliardi e mezzo buttati tutti in assistenzialismo favorire spesso e volentieri il doppio lavoro in nero e soprattutto favorire coloro che di lavorare in maniera seria e profettibile per se stessi e per la società non avevano assolutamente alcuna voglia ma anche con notevoli distorsioni perché il reddito di cittadinanza è finito col favorire i nuclei monofamiliari con tante famiglie che si sono miracolosamente spezzettati in tanti piccoli nuclei monopersonali piuttosto che le famiglie numerose dove il reddito di cittadinanza ha sicuramente fallito però il problema fondamentale è che avere assistito a bocce ferme senza chiedere nulla in cambio senza chiedere investimenti per quanto riguarda l'applicazione al lavoro in maniera seria fatto sì che questi percettori del reddito di cittadinanza si siano allontanati dal lavoro soprattutto di quei lavori a termine stagionali di cui il turismo e il commercio ne aveva dannatamente bisogno e proprio nel periodo 2019-2023 l'economia ha registrato forse il maggiore difficoltà a trovare mano d'opera per queste manuzioni stagionali mentre guarda caso quando il reddito di cittadinanza stava avviandosi ad esaurimento dopo numerosi annunci e proroghe miracolosamente si è registrato il picco di occupazione e soprattutto il ritorno alla voglia di lavorare delle persone e guarda caso adesso che il reddito di cittadinanza non è più attivo ed è stato sostituito dall'assegno di inclusione l'AVI le cose sono fortunatamente migliorate con il record dell'occupazione in Italia e soprattutto con molti meno assistiti a carico della collettività ma che bilancio si può fare del reddito di cittadinanza in questi 4 anni 9 mesi in cui è stata una realtà beh di sicuro dal punto di vista dell'occupazione come detto il risultato è stato negativo dal punto di vista sociale c'è stata poca abolizione dalla povertà perché non è stata affatto abolita ma semmai si è ingrandita e soprattutto dopo che è stato abolito l'assegno successivo di inclusione ha visto un restringimento dei criteri necessari per poter accedere ovvero sia riservandolo solamente alle famiglie in situazioni di difficoltà con minori ultra sessantenni o disabili o con un disagio accertato se la media dei percettori del reddito di cittadinanza in questi 4 anni e 9 mesi di vigenza ha avuto una media di 1,1 milioni di percettori c'è stato anche nel luglio del 2021 il momento del picco dove gli assegni erogati sono saliti a 1,4 milioni con un picco di 767 milioni di spesa da parte delle casse pubbliche mentre il punto più basso del reddito di cittadinanza è stato al fine a dicembre 2023 quando i percettori sono stati appena si fa per dire 722 mila famiglie con meno di 400 milioni di spesa e un assegno medio di 551,07 euro erogato ma il sostituto del reddito di cittadinanza l'assegno di inclusione che è partito a gennaio 2024 come si sta andando? beh fino adesso sono state depositate 287 mila domande e di queste solamente il 26% delle domande prevenute è stata respinta per mancanza di requisiti è ancora interessante notare un ulteriore dato la ripartizione geografica dei richiedenti perché se coloro che avevano fatto domanda per avere il reddito o la pensione di cittadinanza a dicembre quelli residenti nel sud e nelle isole erano il 64,11% tra le prime 287 mila domande che hanno già incassato l'Adi i nuclei residenti al sud sono addirittura aumentati al 78,02% del totale anche qua il reddito di cittadinanza prima e l'Adi ora è un qualcosa che è praticamente concentrato nelle regioni del sud Italia probabilmente sempre nella Calabria Campania e probabilmente la Sicilia e questo è un dato che è particolarmente significativo perché al sud e soprattutto in quelle regioni che una volta erano il feudo elettorale dei 5 stelle in particolare la Campania e la Sicilia dimostrano ancora di avere una forte propensione all'assistenzialismo di Stato mentre nelle regioni del nord la presenza del reddito di cittadinanza prima e dell'Adi ora è qualcosa di molto parziale sicuramente presente in qualche grande città dove esiste una forte presenza di persone condigaggiate in particolare famiglie di emigrati che hanno a basso reddito ma è una presenza estremamente marginale cari amici vicini e lontani anche questa puntata dello schiacciassassi va a terminare prima di salutarvi vi ricordo di consultare il nordeste quotidiano se volete approfondire i temi trattati in questo breve spazio intanto da parte di Stefano Eliana un saluto e arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliate ciao ciao